Parco delle Groane protagonista di due interventi in pochi giorni delle polizie locali dei comuni della Brianza Ovest, un'area al centro dell'attenzione del progetto Groane, finanziato da Regione Lombardia in ambito di sicurezza. Due le postazioni di spaccio che gli agenti della polizia locale di Cesano Maderno hanno smantellato nell'arco di poche ore. La prima, in un controllo che ha riguardato aree boschive adiacenti via Groane, nei parchi e nella stazione cittadina, ha portato all'intervento verso un gruppo di spacciatori, con il recupero di una bicicletta rubata e che sarà restituita al proprietario. La seconda ha riguardato uno spacciatore che si trovava in uno dei parchi cittadini. Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo si è dato alla fuga su un monopattino elettrico. Inseguimento durato finché lo spacciatore, abbandonando il monopattino e saltando la recinzione, si è gettato sulla massicciata ferroviaria fuggendosi i binari, mischiandosi poi ai passeggeri presenti in stazione. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Un vero e proprio inseguimento in automobile, invece, si è verificato martedì, quando gli agenti di polizia locale e dei comandi di Limbiate, Cogliate, Sevese e Meda hanno intercettato un'auto con a bordo tre uomini di origine nordafricana. Dopo un lungo inseguimento, i tre sono fuggiti a piedi nella boscaglia del parco delle Groane, facendo perdere traccia di sé. Nell'auto, risultato a noleggio e sulla quale sono in corso gli accertamenti del caso, gli agenti hanno trovato un fucile con diversi proiettili e delle schede telefoniche usa Getta.